Quanti sono i monitor disponibili per l'8280 TTV? C'è la possibilità di installare due tipologie di monitor, una a 8 e una a 12 pollici. Dal monitor sono facilmente impostabili tutte le funzioni relative al trattore, in termini di assegnazione dei comandi, come ad esempio il distributore o le sequenze di fine campo. Inoltre è possibile controllare le attrezzature ISOBUS e tutti i sistemi di guida satellitare offerti da Doidsman. La differenza tra i due monitor è anche che il 12 pollici riesce a gestire 4 telecamere esterne mentre l'8 pollici riesce a gestirne solo 2. Aggiungo che con l'i monitor è facilissimo assegnare i distributori ai propri comandi e scegliere di cambiare a seconda della lavorazione effettuata.